salve a tutti in questo nuovo video tutorial mostrerò come riparare una technics 1002 che si accende ma non funziona quando viene dato il comando di rotazione con lo start stop allora il io lo accendo ecco piatto è acceso do il comando di accensione ma non si muove nulla ok allora io per economia di tempo ho già smontato il piatto e abbiamo la possibilità di visionare quello che c'è sulla scheda madre per iniziare ad analizzare il problema della scheda madre dobbiamo unirci di un manuale di servizio del technics lo trovate agevolmente su internet ci sono parecchie scansioni trovate quella che si riferisce al 1200 quella che si vede anche meglio e dopo di che iniziamo ad analizzare passo dopo passo quello che ci illustra il service manual come potete vedere dalla presa di rete abbiamo il trasformatore e poi lo switch che da l'accensione power e poi ci a c 30 v 12 1 e 2 a c 30 questo che vuol dire che in questo punto della scheda madre questi due punti dovremmo avere i 30 volt alternati quindi uniti di un tester andiamo a posizionare puntali sul pin 1 e pin 2 in modo tale da verificare se c'è se c'è la tensione sulla scheda madre questo è il primo passo che va fatto io ci sono e abbiamo la tensione ok per analizzare le altre parti del della scheda madre anche se non siete muniti di service manual perché non siete riusciti a reperirlo su internet analizzate bene la scheda madre nel punto d3 dove c'è il diodo zener d3 c'è scritto 5 v poi abbiamo tp 5 sulla resistenza r 304 20 v il puntale nero lo posizionate qui sulla terra mentre il rosso andrà posizionato su andrà posizionato sul punto d3 ecco come in questo modo mi riposiziono su d3 dovrei avere 5 volt e non c'è niente vado a fare questa stessa indagine sul tp 5 vado a vedere se c'è anche qui c'è qualcosa che non va allora ho aperto la pagina del service manual dove a grandi linee ci illustra quali componenti vanno controllati nel caso in cui ci sono dei malfunzionamenti del giradischi allora se non si accende il andare a controllare il circuito tp 5 20 volt noi l'abbiamo controllato su questa scheda ed è questo e non avevamo nulla sul nostro tester quindi che ci dice che nel caso in cui non funziona quindi 20 volt non l'abbiamo dobbiamo andare a controllare il fusibile e non è questo il problema perché il nostro trasformatore il la scheda la pcb dove è collegato il trasformatore genera la corrente perché abbiamo controllato che sui pin 1 e pin 2 ci fossero i 30 volt quindi andiamo ad escludere fusibile switch e il trasformatore t1 diversamente dobbiamo andare a controllare d1 q1 q2 q3 cioè dobbiamo andare a controllare dobbiamo andare a controllare questi componenti e cioè diodo metto un attimo il il faretto il flash allora dobbiamo andare a controllare il d1 che è questo che è il diodo raddrizzatore il d3 lo dico io che lo zener transistor q2 q3 e q1 quindi questo componente più q2 e q3 vedete le serigrafie q2 e q3 quindi a questo punto noi possiamo subito ipotizzare che c'è qualche problema nei transistor soprattutto nel q2 e nel q3 successivamente nello zener questo perché noi non abbiamo nel punto d3 i 5 volt è vero che il service manual parla del tp5 i 20 volt però il nostro problema è già evidente in questo punto della scheda madre allora abbiamo innanzitutto smontato e rimossa dall'interno del dello chassis la scheda madre e guardiamola da quest'altra prospettiva andiamo a lavorare sui due transistor sul diodo zener controlliamo anche quest'altro transistor 1 vediamo se sono funzionanti io come mi avevo precedentemente detto sono quasi sicuro che il problema è nel q2 nel q3 che andrò a rimuovere e a sostituire nel service manual possiamo verificare quindi lo schema di 30 volt pin 1 e pin 2 diodo raddrizzatore il diodo zener transistor 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 q1 q2 e q3 allora io ho provveduto a dissaldare i transistor mi sono però accorto che qualcuno ha messo mano alla scheda madre e ha combinato un vero pasticcio il vero problema è legato a questo non so se riuscite a vedere cerco di mettere a fuoco allora guardate il transistor e il q2 è stato montato tutto al contrario quindi il problema ora vi faccio vedere come vanno montati sul piatto funzionante il problema è il transistor q2 ho rimontato il piatto ho acceso il giradischio posizionato il puntale nero sulla terra adesso andrò a mettere il puntale rosso sul punto d 3 dove sulla scheda madre rega una caratterigrafia 5 v 5 volte andiamo a controllare il tester vediamo se abbiamo il voltaggio eccoci qua finalmente abbiamo restituito il giusto voltaggio alla scheda madre io a questo punto direi di fare una prima prova e vedere se il piatto gira quindi se il piatto funziona ok ci siamo il piatto è stato parzialmente riassemblato ho installato la scheda del pitch ora andrò andrò ad accendere ecco e faremo la prova se gira o meno speriamo bene il piatto ahimè non gira ok allora arrivato a questo punto andiamo a controllare nuovamente il voltaggio sul d3 sul tp 15 i 9 volt e sul tp 5 i 20 volt controlliamo che ci siano i voltaggi corretti di voltaggi corretti vediamo un pochettino allora andiamo a ricontrollare il d3 e abbiamo i nostri 5.3 controlliamo il tp 5 dobbiamo avere 20 volt e ci sono controlliamo tp 15 i 9 volt ok ad ogni modo ho cercato anche con l'ausilio dell'altro gira dischi di trovare qualcosa che non andasse e ho controllato anche i voltaggi dei due circuiti integrati e penso che l'unica cosa che non mi fa andare il gira dischi e lo stature ho rimosso la copertura di plastica e ho trovato una sorpresa e e cioè ho notato che i fili che collegano alle bobine sono bruciati allora sono arrivato a questo punto e cioè ho sostituito lo statore del gira dischi e ho installato uno statore nuovo eccoci il piatto è stato riassemblato non badate all'estetica giusto per provare accendiamo e adesso la prova del 9 eccoci qua il nostro piatto funziona perfettamente lo statore era rotto del gira dischi proviamo ora 45 giri perfetto stop va tarato ok questo quindi è l'ultima l'ultimo video l'ultima parte del video tutorial spero che sia stato d'aiuto a qualcuno lasciate dei commenti e iscrivetevi al canale ciao a tutti grazie 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 a tutti